Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi vi spiego come settare al meglio le nuove impostazioni di OBS Studio, ovviamente siamo sempre con una vecchia versione, diciamo la versione 30.1.2 ed è uscita la versione 32.1.2 ovviamente le impostazioni rimangono uguali, quindi in questo caso qui faremo un settaggio proprio per ogni computer, quindi in questo caso ci sono così le impostazioni sugli strumenti, quindi se tu vai direttamente su strumenti qui c'è scritto configurazione automatica guidata che è più comoda di fare direttamente su impostazioni, su video, perché io non posso farti vedere i miei settaggi, per esempio se hai un computer dove fai fatica a giocare e quindi non puoi usare queste impostazioni che tengo io che sui giochi non ho problemi di lag, quindi posso registrare e giocare tranquillamente senza laggare con queste impostazioni, quindi in questo caso noi andremo direttamente a fare una guida automatica, quindi sarà OBS a guidare noi, quindi se andiamo un attimo su strumenti, configurazione automatica guidata, ora qui c'è scritto ottimizza per le dirette, le registrazioni sono meno importanti, quindi se tu fai live su youtube o twitch o su altri social metti questo e andiamo avanti, se invece fai solo registrazioni clicca qua sopra e fai avanti, risoluzione di base inquadratura andremo così a mettere quella del nostro monitor, ovviamente io andrò a registrare in full hd, fps invece metto 60 fps, ci metto questi, se tu non ti trovi con gli 60 fps puoi mettere i 30 fps, oppure 60 fps 720, quindi 60 fps, 720, oppure 1080, 30 fps, io invece metto questi due qua alti, faccio avanti, una volta fatto codifica per le registrazioni, quello che mi consiglia è l'hardware, questo qua mi consiglio, per mettere il tuo computer ti andrà a consigliare quello che uscirà qui, quindi a me è uscito hardware, questo è di nvidia, qualità della registrazione, alta qualità, dimensioni dei file media, quindi dei file di un peso medio, risoluzione di base inquadratura, 1080, 1080, fps 60 e faccio applica impostazioni e basta. Ora se vado direttamente su impostazioni, vado su video, full hd, 60 fps, uscita, questo invece, uscita, modalità di uscita mi ha messo così semplice, così facendo, quando vado a registrare l'encoder video, ed eccolo qua, hardware, questo è di nvidia, h.264. Quello che usavo io spesso sono avanzate, quindi diretta e registrazioni, per le registrazioni, ed eccolo qua, formato di registrazione, mp4, mpg-4 mp4, nvidia, come ho detto questo è di nvidia, h.264 e basta. Ora, per le impostazioni e encoder, tipo un tipo di controllo della frequenza, il migliore è tra il cbr e il cqp. Io prima usavo cbr e miglioravo così la qualità del video senza che faceva vedere quei cubetti, tipo pixel cubetti nella registrazione, che si vedeva veramente malissimo. Quindi ti consiglio di inserire il cqp. Livello di quantificazione costante, puoi mettere tra un 8 e un 12. Quindi inserisci così un 8, se non ti trovi puoi mettere il 10, io invece ho messo il 15. Intervallo fotogramma chiave, metto 0 secondi, scendo fino a giù fino a trovare il tuning, alta qualità. Come ho detto, se hai problemi di lag sul tuo computer, inserisci la bassa latenza. Modalità multipass, passaggio singolo. Profilo height, questo qua, se hai problemi di lag, metti questo qua, base. B-frame massimi 2 e basta. E fai applica. Per le dirette invece dipende dalla tua connessione. Ho messo, come ho detto, il cbr, tipo di controllo della frequenza, e puoi regolare la velocità in bit. Senza che nelle live si vedano quei cubetti quadrati, tutte quelle... Quindi si vede malissimo la qualità. Quindi se metti per esempio 1000 kilobit al secondo, si vedrà veramente malissimo la live, veramente malissimo. Però non avrai problemi di lag. Quindi se hai una buona connessione, una fibra, per esempio, vai a fare uno speed test della tua connessione, a me di upload va 300 megabit al secondo. Quindi non ho problemi, quindi posso anche impostare il 6000. Quindi ti consiglio da un 2500 fino al 5000-5500. Se hai una fibra, un gigabit, puoi anche tu impostare il 6000 per non avere problemi di lag, per non avere così, per migliorare la qualità nelle live. Intervallo fotogramma chiave, 2 secondi, alta qualità, passaggio singolo e height. Questi qua. Queste sono le impostazioni che ho messo io. E basta. E faccio applica. Comunque, se hai problemi di lag, problemi delle registrazioni o live, basta che commenti sotto al video e cercherò di trovarti una migliore impostazione sul tuo BS Studio. Quindi, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.